Altra iniziativa questa sera allo Stazzone, parte la manifestazione una piazza di libri che andrà avanti per diverse sere fino a domenica. Di che cosa si tratta? Allora sarà un evento organizzato dal collettivo Zona 2.5 e dalla consulta giovanile in collaborazione con Borgo Stazzone e il patrocino del Comune di Sciacca. Saranno quattro serate tematiche, quattro temi appunto lo schiticchio, mare e ambiente, letteratura locale e musica. Quattro serate che saranno di accompagnamento alla libreria all'aperto che installeremo appunto al Borgo Stazzone, nella parte diciamo dei pergolati nuovi. Sarà nello stesso meccanismo della prima edizione che abbiamo fatto quest'inverno in Bielicata, ci sarà la possibilità di scambiare libri, di parlare di cultura, di fare raccolta, di pulire anche casa dai propri libri e fare una nuova scorta. Quindi vi aspettiamo, sarà quindi quattro sere dalle sette a mezzanotte al Borgo dello Stazzone. Quali saranno gli altri temi allora che tratterete? I temi sono quattro, sono le quattro serate, abbiamo appunto questa sera si inizia con lo schiticchio, ci sarà la lettura infatti anche di Licata, ci sarà una mangiata sociale. Avremo domani mare e ambiente, quindi anche parlando di ambiente come riciclaggio, come insomma salvaguardia. Sabato invece si parlerà di letteratura e autori locali, con anche un omaggio a Camilleri. E domenica chiuderemo con la serata musicale, con tutti gli artisti diciamo locali che si esibiranno durante l'evento. Un'iniziativa che chiaramente mira a incentivare il piacere della lettura. Sì sicuramente, l'idea è questa, infatti far girare la lettura, non solo diciamo per pulire le librerie, ma anche per appunto magari trovare qualcosa che non si trova facilmente, trovare qualche chicca, qualche libro che può servire, insomma può fare sempre piacere. Grazie. 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 Grazie.